No, dicevo che non è marginale questa questione, non è marginale questa questione, a parte che a Cazzola vorrei dire che i vitali, c'è anche che di pensione ne prende due, come lui, ma vabbè, lasciamo stare, visto che sono fastidioso, non voglio essere oltre modo fastidioso. Non si sente Cazzola, lei lo sa che i giornalisti aprono il contributivo dal primo gennaio del 2017. Se lei avessi letto il mio libro, l'ho scritto, Cazzola, se lei leggessi i miei libri, vede che l'ho scritto, stanno crescendo, quindi io ce l'ho anche con le pensioni dei giornalisti, scoprirà anche quando prende lei di pensione, visto che prende 13 mila euro di pensione, scoprirà leggendo, ma non dico questo, sì, prende una pensione a cui somma il vitalizio, una pensione da 10 mila euro a cui somma il vitalizio. Ma questo è l'ordo, questo è l'ordo, allora l'ordo, per 10 mila euro l'ordo, non rimudiamo nelle tasche dei nostri ospiti, fermiamoci ai concetti. Prego Giordano. Dico, posso dire che non è, perché non è rilevante, non è rilevante perché sulle pensioni che sono, come voi sapete bene, perché ne ve ne affrontate quotidianamente tutte le settimane, è un tema così sensibile. Il fatto che ci sia un gruppo di persone che sono, guarda caso, quelli che hanno fatto le leggi, che si sono fatti le leggi per preservarsi i loro privilegi, mentre hanno chiesto i sacrifici ai cittadini, è una cosa che aumenta enormemente il distacco dei cittadini della politica. Che è l'unica cosa che si porti in questo momento. Grazie a tutti.